Io sono molto felice e molto contento di avervi qui questa sera, questo è un incontro di ringraziamento nel senso che voglio ringraziare tutti quanti, gli amici dell'ambasciata, il sistema Italia, il sistema paese per cui l'ambasciata, i siti di cultura, la Sace, l'Ice, Comites, i consoli onorari, tutti quelli che mi hanno accolto un mese fa quando sono arrivato, mi hanno dato molti consigli preziosi, cercherò di fare tesoro e di applicare e dirvi che sono contento di essere qui, di essere l'Ace del Messico, di essere il vostro ambasciatore, questa è la vostra casa, come dicono, su casa, come si dice qui, per cui sentitevi, sarà sempre aperta agli italiani, sono anche molto felice e onorato questa sera che ci sia con noi Monsignor Franco Coppola, che è il minuzio apostolico, ora la chiesa è universale, per carità, però lui è italiano, sta benissimo stasera con noi, benvenuto, ci dia una benedizione che abbiamo bisogno, non voglio dire banalità, nel senso che il 2016 sta chiudendo, è stato un anno per, grazie, è stato un anno insomma con tante difficoltà in salita, come si dice, no? Per l'Italia, un referendum, due referendum per Paolo Epifani, due è possibile, lui ha postato sulla sua pelle, che confede, l'anno prossimo non sarà facile, indubbiamente, però è Natale, per cui non mi metto a parlare insomma in maniera pessimista, sinceramente non mi sembra il caso, per cui Natale insomma è un momento di pace, di serenità, di speranza, di affetti, di vicinanza, di calore, per cui insomma vorrei trasmettere, anche se la casa è un po' fredda, mi rendo conto, il mio calore umano, il mio apprezzamento, il mio ringraziamento, vorrei alzare, spero che tutti abbiano un bicchiere insomma con un po' di prosento, vorrei alzare il mio bicchiere insomma e dire grazie veramente di cuore, buon lavoro a tutti, è importante, sistema Italia vuol dire essere coesi, soprattutto questo era il senso di questa riunione questa sera, cioè poter comprare gli uni sugli altri, fare un lavoro di squadra, in Italia si dice il giglio magico, nel senso del gruppo più vicino, insomma, ora è vero, noi dobbiamo ambasciata, tutti voi delle vostre articolazioni, trovare un modo di stare insieme, anche criticandoci, anche con una critica costruttiva, dandovi dei consigli, insomma dicendo quello che non va, oppure quello che va, però è importante che ci sia un'unione e che si diventi veramente comunità, questo veramente è quello che io sento insomma, di voler lavorare per questo, per cui spero di poter contare su di voi, anzi sono sicuro di poter contare su di voi e vi auguro ogni bene, buon Natale, ancora per un buon anno perché sarebbe prematuro, ma insomma per il momento buon Natale, auguro, 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 auguro. Grazie.